e riviusi a smr ciao a tutti come state? spero tutto bene oggi andremo a fare super mix food and drink siete pronti? 1,2,3, via! allora e se passi e se passi e se passi Tick 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 Ok App�i Sì Non 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 Sì Avevo Non 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 Sì mettere così questa e 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 drink e food drink e food drink e food e 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 bene ragazzi grazie a tutti per aver visto questo video vi do appuntamento alla prossima ciao